Un anno di indagini e 2200 GB di materiale visionato sono serviti alla Guardia di Finanza di Lucca per contestare di concetto con la procura lucchese il reato di evasione fiscale internazionale ed omessa dichiarazione dei redditi per 10 soggetti operanti nel gruppo Perini Navi SPA. Il nome grosso dell'operazione è ovviamente il Cavaliere del Lavoro Fabio Perini che dall'inizio degli anni 2000 ha dato vita al comparto Navi il più quotato per i velieri al mondo. La cifra è da perdifiato 112 milioni di euro sottratti al fisco italiano sotto forma di evasione fiscale internazionale per 20 milioni e di oltre 80 milioni di euro per omessa dichiarazione dei redditi. Il sistema è abbastanza semplice il gruppo Perini Navi dopo la rivalutazione dei marchi Perini Navi e Perini Istanbul ha contabilizzato la plusvalenza di 378 milioni di euro non alla Perini Navi SPA di Viareggio bensì ad una holding lussemburghese formata da 15 consociate siti in Rubomont da cui il nome dell'operazione delle fiamme gialle dato che in quello stato non esiste una tassazione specifica. L'operazione sarebbe del tutto lecita se la gestione delle attività avesse luogo in Lussemburgo ma la di finanza ha evidenziato come l'attività direttiva fosse di fatto svolta da Viareggio evidenza che si è potuta dimostrare dalle oltre 300 mila mail intercorse tra la sede bersiliese e la holding con tanto di verbali di consigli di amministrazione da freccia dura in francese per far figurare come svolti direttamente in Lussemburgo. I reati sono stati contestati a 10 persone di cui 8 domiciliati all'estero. La procura di Luca ha posto in sequestro quote e azioni societarie nella disponibilità di Fabio Perini per 26 milioni di euro chiedendone anche la confisca per valore. Alla conferenza stampa era presente anche il generale della compagnia toscana della guardia di finanza Giuseppe Vicanolo che ha espresso il proprio consenso per il lavoro lucchese e ha indicato il futuro delle fiamme gialle. Le tasse bisogna pagarle tutti nella misura corrispondente alla propria capacità contributiva. Questo è il principio costituzionale che vincola grandi e piccoli e noi lavoriamo affinché questo principio corrisponda sempre di più alla effettività del nostro paese. Tornando alla vicenda Perini e SPA, essendo il gruppo fortemente differenziato nella produzione, è da ritenersi conclusa la fase investigativa? Sì, la riteniamo conclusa perché si è anche già conclusa la fase delle indagini preliminari e quindi a questo punto si passa sostanzialmente al processo. Dal nostro punto di vista anche sul piano fiscale e amministrativo non ci sono altri rilievi in prospettiva, quindi noi la riteniamo conclusa come verifica. Grazie. Grazie. Grazie.